Perché un convegno sulla comunicazione e perché sul digitale? Perché ormai il digitale ha completamente cambiato le nostre vite, ha cambiato il mondo del lavoro, ha cambiato il modo di fare comunicazione. Quindi sentivamo l'esigenza di creare un evento, un dibattito, un incontro il più aperto possibile, che insieme a dei professionisti del settore potesse dare delle linee guida e aiutare a capirci un po' di più e a capire quello che sta accadendo intorno a noi. Possiamo dire chi ci sarà fra i relatori? Sì, ci sarà Carlo Ramo che è un esperto di comunicazione, Pippo Ferrante, anche lui un marketer, un blogger, ci sarà Maria Angela Terrane che è un influencer, oggi dobbiamo fare conti anche con questo nuovo canale di comunicazione da parte delle aziende, ci saranno dei giornalisti, tra questi Daniela Monteleone, che ci daranno quindi il loro punto di vista su come è cambiato il modo di fare informazione e insieme a questo ci saranno gli imprenditori del territorio che hanno accolto questo appello e tantissime altre associazioni e ragazzi che insomma insieme ci daranno modo di approfondire questo tema. Come è cambiato la nostra vita e il digitale? Ma l'ha cambiata sotto ogni punto di vista, è cambiato il mondo del lavoro, una volta si pagava del posto sicuro, del posto fisso, un esempio del posto in banca, oggi le banche pagano di licenziamenti, pagano di esuberi, è cambiato anche il modo di fare comunicazione, un tempo avevano accesso ai canali comunicativi solo alle grandi aziende, oggi ancora una piccola azienda può aprire una pagina Facebook, può provare a fare comunicazione, però abbiamo bisogno degli strumenti per fare bene, per capire ciò che accade intorno a noi, quindi l'obiettivo è proprio questo, dare un contributo insieme a dei professionisti e insieme discutere su quello che è possibile fare a Bagheria visto che lo stiamo facendo qui ed è importante lanciare anche un segnale nel nostro territorio. Bisogna comunque stare attenti a questa forma di comunicazione immediata e rapida? Assolutamente sì, perché come ogni cosa non è tanto un mezzo di essere positivo o negativo, dipende dall'uso che se ne fai, il web è una cosa bellissima ma può diventare anche una cosa controproducente da un punto di vista anche di relazioni, di isolamento e tutto, quindi è importante capire come farlo funzionare al meglio e in base a questo riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo, sia un'azienda sia un professionista. Ricordiamo quando sarà e a che ora? Sì, sarà questo giovedì, giovedì 8 agosto, presso lo spazio estivo del ristorante Vintireci con cui stiamo facendo questo evento in collaborazione con Interno 95, quindi a partire dalle ore 17 ci sarà questo incontro e avremo così la possibilità insieme di discutere di questi temi che oggi sono assolutamente prioritari. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!